La malattia mentale, troppo spesso considerata una patologia di serie B e le persone affette da disturbi psichici relegate ai confini della società. A Modica, nel reparto di psichiatria dell'ospedale Maggiore, da anni si lavora per la reintegrazione degli utenti in una sinergia con il territorio, con la cultura e l'arte. Dopo il progetto teatrale, fotografico e artistico dedicato ai luoghi dei Grimaldi della scorsa primavera, l'arte entra nuovamente all'interno del reparto per coinvolgere i numerosi ospiti in un progetto educativo e riabilitativo dell'ASP, coordinato dalla psicopedagogista Elisabetta Rizza, dalla sociologa Alessandra Barone, con il supporto tecnico del maestro Salvatore Fratantonio, non nuovo ai progetti artistici solidali dedicati alle comunità più deboli. Questa mattina protagonista erano il mare, i carrubi, la musica e la bellezza, insieme alla solidarietà. Io ho accettato volentieri questa cosa e sono felice di averlo fatto perché in fondo a questa gente io vorrei dimostrare che dipingere fa bene. Infatti faccio scegliere in genere loro se vogliono dipingere il mare, la terra, qualsiasi cosa e poi li lascio liberi di fare quello che vogliono. Ed è qui che stanno acquisendo la libertà di espressione. Noi al servizio di psichiatria da alcuni anni abbiamo spostato l'attenzione dall'aspetto legato alla cura, alla prevenzione e alla promozione della salute mentale, soprattutto verso il settore della riabilitazione. Noi crediamo moltissimo nella possibilità di reintegrare, reinserire i nostri pazienti all'interno della comunità, quindi del nostro territorio e lo facciamo proprio con dei laboratori di riabilitazione. Ne abbiamo tanti, abbiamo laboratori di tipo espressivo come quello che andremo a vedere stamattina, ma abbiamo anche dei laboratori esterni, per esempio che riguardano le attività motorie, oppure laboratori con obiettivi più cognitivi e più, diciamo così, esperenziali. Abbiamo anche da diversi anni avviato dei progetti di reinserimento lavorativo e di reinserimento sociale veramente a tutto tondo. Di questo è un laboratorio veramente di sperimentazione. Stiamo cercando delle connessioni fra l'arte e la psicopatologia. L'arte terapia è una tecnica che viene utilizzata, ci sono delle scuole di formazione e ci sono degli arti terapeuti. In questo caso noi abbiamo la presenza di un pittore, quindi con la sua esperienza, con tutto il suo essere artista, di una collaboratrice, e chiaramente i nostri ragazzi che si stanno sperimentando, ma stiamo cercando di sperimentare anche noi. Infatti ogni volta raccogliamo un po' quelle che sono non solo le tele che loro stanno dipingendo, ma anche la composizione del gruppo, gli argomenti che vengono trattati e il tentativo di mettere insieme proprio questi due aspetti per vedere che cosa ne nasce fuori e che cosa può appunto accadere mettendo insieme l'arte e la patologia, se ci sono delle trasformazioni. Ecco, questa è la parte diciamo più sperimentale e più anche intrigante di questo progetto. L'arte in ogni sua espressione diventa lo strumento per riappropriarsi del proprio territorio e di se stessi, un'esperienza che i partecipanti hanno dimostrato di gradire e apprezzare. Che cosa si prova a dipingere? Si prova tanta emozione, si prova anche amore, pazienza, ci vuole molta attenzione, ci vuole molta dedizione, però è una cosa fantastica e bellissima. In particolare ritengo che la pittura sia appunto un viaggio della mente e del cuore, un viaggio della mente proprio perché attraverso il fascino della mente uno si relaziona con gli altri e descrive quello che è la natura, il mondo esterno, ma anche del cuore perché proprio esprime attraverso i propri stati d'animo, le proprie emozioni, quello che vede e quello che sente dentro. Le tele realizzate saranno esposte a Palazzo Grimaldi a conclusione dell'iniziativa. Intanto è possibile sostenere i progetti del reparto e dell'Associazione Genitori Ci Siamo Anche Noi, che corprende anche la realizzazione dell'orto urbano in uno spazio adiacente all'ospedale, acquistando le grafiche donate dal maestro Fratantonio, oltre alle tele che un gruppo di pittori aveva donato al reparto in occasione del progetto sui Grimaldi. Piccoli gesti che portano avanti importanti progetti.